Giuseppe, mi chiedevi la tua canzone. La canzone è chiamata Embers, e si racconta l'acqua che non è fuori, che può essere riegnito quando le persone vengono insieme, e voglio che sia una partita divertente, tutti hanno buoni tempi. Sento che scrivi una canzone per molti altri, anche famosi artisti, che tipo di esperienze in Eurovision? Penso che sia diverso. È una esperienza totalmente diversa. Settare in studio e scrivere con altri artisti è meraviglioso, ma essere qui e parlare, e avere questa tutta esperienza... Cosa pensi sull'Italian musica? Italia musica? Mi piace! Mi piace la band! Manny Skin! Sì! Sì!